vi mostreremo ora come caricare e gestire i file all'interno dell'istanza di lavoro nella pagina di interesse sul menu a sinistra selezionare library dopodiché ci sono due modalità è possibile o importare un file zip, un file compresso precedentemente creato cliccando su zip import poi sfoglia, scegliere il file di interesse e caricarlo con upload data allo stesso modo è possibile cancellare il file selezionandolo e dando il comando delete nel caso ci fossero più cartelle, prima di importare il file è importante selezionare la cartella di destinazione per scelta se il file non fosse compresso, da submit, selezionare type to add file dare il titolo del file che si vuole importare o il titolo che si vuole che compaia nella stanza di lavoro dopodiché su upload a file sfoglia, selezionare il file e submit per caricarlo dentro la cartella allo stesso modo che abbiamo visto prima è possibile cancellarlo grazie mille